Pioggia intermittente, temperature vicine ai 15 gradi, hanno accolto il Bari a Roccaraso nella mattinata di venerdì al primo giorno di lavoro nella località scistica dell'Alto Sangro, sede deputata per il ritiro estivo della formazione di Michele Mignani, a ritorno in via a quattro anni dall'ultima volta. Tra i 28 giocatori che hanno raggiunto l'Abruzzo, dove il Bari lavorerà fino al 23 luglio, non ci sono Andreoni, Marras, Lollo, Derisio e per Rotta, rientrati dei prestiti e rimasti ad allenarsi in attesa di novità di mercato, di comune accordo con la società. A guidare la squadra nel primo giorno di lavoro, tanti volti che hanno rappresentato la spina dorsale del Bari promosso in B, da Emanuele Terranova con Luc Damarin a Capitan Valerio Di Cesare, fresco di rinnovo di contratto, passando per Mattia Maita, pronto per il primo campionato cadetto da protagonista in carriera dopo un lungo apprendistato in C, fino a Mirko Antenucci, tra i più acclamati dei pochi tifosi presenti, aumenteranno nel fine settimana complici turisti in arrivo e Ruben Botta, al centro di diverse voci di mercato nel mese di giugno e rimasto in bianco rosso dopo essere tornato per le vacanze nella sua Argentina. Ci sono poi i volti nuovi, voce in cui trovano posto under portati in bianco rosso sin qui dal direttore sportivo Ciro Polito. Si tratta di Medidor Val, terzino franco marocchino del 2001 arrivato dall'audace Cerignola, Marco Bosisio, centrale del 2002 ingaggiato dopo l'esperienza con il Milan Primavera e il portiere Elia Caprile, classe 2001, reduce dalle esperienze con Leeds Under 23 e Propatria. Tre storie diverse, accomunate dall'esordio in B che si avvicina, concetto valido anche per un sorridente Walid Kedira, attaccante del 98 riscattato dal Parma dopo la stagione in prestito a Bari. Outsider sono il quarto portiere Pellegrini, classe 2005 e il 2002 Montenegrino a Metai, attaccante pronto a una tappa in prestito. I desideri dei tifosi ovviamente sono per il calciomercato. Il prossimo acquisto sarà quello di Francesco Vicari, difensore in arrivo a Bari dalla Spal, ha svolto le visite mediche in mattinata a Roma e dovrebbe raggiungere l'Abruzzo già in serata. Nei 15 giorni di lavoro a Roccaraso che si concluderanno il 23 con la trasferta di Frosinone per un amichevole contro un club di pari categoria. Prima ci saranno le sfide ai dilettanti del Roccavivare e dello Spoltore, le porte delle trattative saranno girevoli, qualcuno scenderà dalla macchina a Bari, altri ci saliranno. Intanto la stagione ha avuto ufficialmente il via.